scontatutto expert e risparmi un mare di euro ultrabook asus processore intel core i3 grafica da 2 giga design in alluminio a soli 499 euro scontatutto expert un contributo di 900 mila euro per mantenere i servizi scolastici e salvaguardare l'attività delle scuole nei comuni montani finanziando interventi di manutenzione dei plessi e garantendo sostegni per la gestione del personale docente lo stanziamento sarà assegnato dalla regione piemonte utilizzando parte dei fondi del diritto allo studio e parte del fondo aereo regionale per la montagna le risorse saranno assegnate tenendo conto dell'altitudine, distanza tra i plessi scolastici e tempi di percorrenza e intanto la provincia riapre tutte le scuole superiori e mette al centro la sicurezza di studenti e insegnanti 12 in particolare i cantieri che da Torino a Grugliasco, da Pinerola a Giaveno, da Ivrea a Davigliana, da Rivoli a Carmagnola hanno visto nei mesi estivi opere di manutenzione importanti per avviare in sicurezza lezioni solo nel corso dell'ultimo anno, spiega Saitta, la provincia di Torino ha fatto eseguire oltre 3600 controlli e sopralluoghi nelle scuole oltre 1500 interventi di manutenzione ordinaria per poco meno di 2 milioni di euro e oltre 150 interventi di manutenzione straordinaria per 4 milioni di euro arrivano a Pinerola domani e domenica le formule a pedali l'iniziativa organizzata dalla Proloco di Pinerolo costituirà la quarta prova del campionato italiano 2013 si tratta di una gara di auto da corsa del tutto simili a dei prototipi con l'unicità che non sono spinte da alcun tipo di motore ma solamente dalla forza delle gambe le aree che verranno coinvolte saranno Piazza Vittorio Veneto all'interno della quale verrà disegnato un circuito cittadino con partenza e arrivo, zona box, direzione gara, commento audio e aree riservate ai viti e sponsor il corso Torino invece sarà destinato alle animazioni complementari l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 16.30 per l'allestimento del circuito dell'area box la domenica prove libere e cronometrate alla mattina e gran premio nel pomeriggio riapre domani dopo 5 anni di chiusura in alta Valpellice il rifugio del Baran ricavato all'interno di una ex caserma a quota 2373 metri nel 2008 erano iniziati i problemi di questa struttura che a causa dell'abbassamento delle falde acquifere non aveva più l'acqua potabile ora sono state fatte nuove condutture ed è stato allestito anche un impianto fotovoltaico e domani salire in alta Valpellice sarà anche l'occasione per visitare il giardino botanico alpino Bruno Peironelle che su un'area di 17.000 metri quadri vede crescere 300 specie spontanee di flora alpina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti